Il mattino di domenica mattina, molte persone vorrebbero dormire, molte persone stanno dormendo, molte persone sono sveglie come me A fare questo video, chissà chi poi sta facendo video, chi sta facendo altre cose, chi è sveglio, chi non è sveglio Vabbè ragazzi, saluto tutti Nuovo video, sto in pigiama, sto tutto scombinato, mi sono appena svegliato, ho fatto appena colazione E voglio fare un video su resoconto delle live di ieri Ho fatto due live ieri, che hanno fatto circa 70 visual assieme Un buon risultato, ho guadagnato 6-7 iscritti, buon risultato anche qui, con iscritto ricambi Che non è poi una cosa così positiva, però magari numericamente parlando di iscritti si, intanto ho tutte le cuffie storte Siamo prossimi ai 400 iscritti, devo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti dal primo all'ultimo Questo ormai è un ciclo che dura quasi da un anno e mezzo, da due anni e mezzo Perché ho aperto il canale, se non sbaglio, proprio il 16 luglio del 2017 E ora siamo a novembre, se non sbaglio, proprio il 16 novembre o il 17 novembre del 2019 Quindi, che dire, sono quasi due anni e mezzo, sono tipo due anni e quattro mesi, cinque mesi Quindi, il canale sta crescendo ultimamente, negli ultimi mesi, dall'estate ha avuto proprio un espload finale E quindi bene, io vi chiedo semplicemente di vedere questo video e di condividerlo E continuerò a fare live soprattutto, perché in questo periodo mi piace molto fare live Perché vedo che la gente è attiva, quindi continuano a fare live, vi annuncio questo E dunque condividete questo video, perché voglio che il canale raggiunga 400 iscritti Anche magari qualcuno che vuole fare iscrittori cambi con me, non c'è problema Quindi, bella ragazzi, qui è finito, circiao